Allora, sono su un set di cinema e sono seduto su una sedia, quelle tipiche da regista, col telaio di legno e di stoffa, però sono seduto in un angolino perché probabilmente non sono io il regista. O questo è quello che penso? Parlo con due donne, una è la segretaria di edizione e una è la costumista, poi a un certo punto sono da un'altra parte in un grande studio in alto sul pallatoio e sto guardando la preparazione del set. Al centro di questo studio c'è un grande abete come un albero di Natale appeso con delle corde a mezz'aria. Sotto ci sono delle persone che stanno allestendo altre scenografie del set. Ecco appunto, e mi metto a parlare con lo scenografo, parliamo della regione in cui siamo, il territorio in cui siamo. Siamo in Svizzera, in Svizzera tedesca e infatti a un certo punto si vede da un lato delle persone che ballano, cantano e suonano coi costumi tradizionali del luogo.